Come dite di questa crisi torsa? Grazie. Sì, sì, è bella. No, come dire, non ti faccio entrare senza il biglietto. E' bello, si sta bene, è meno umido di Roma. Buono. Enrico, ma com'è questo Zazzicchi? Buonissimo. Piace pure a Sofia il Zazzicchi. Irene, com'è? Alla giù. Ma la chiesa è patrimonio o la piazza? Vieni. Buon appetito. Grazie. 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 Esatto. Ma questi con tutti questi quadri che venerano. Poi la chiesa non sta a rompi i coglioni a chi ama gli animali. Sofì, ma che animali ci sono nel mosaico? Vediamo un po'. Il leone. Ok. Il bue. E gli altri due li dobbiamo trovare perché sono gli animali degli evangelisti. Il pesce. Ma quello no. Non c'è il pesce? No. Non lo vedo. Quella sopra. Sopra un'altra destra c'è... ... 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 iscriviti al mondo e 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 se no si perdono e 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 ecco che girano piano piano l'M adesso ti raggiungeranno che vuol dire stiamo andando a quel paese? si 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 li stiamo andando a quel paese state più lontani che quella zona ecco sta tornando qualcuno no e certo c'ha ragione che devono ammazzare tre greci e un russo si sta avvicinando sempre di più il greco secondo me la bufanza è incazzata adesso tira fuori un bastone vedi bastone come arrivano a terra perchè già tornano il cazzadone del greco vuole uccidere il greco? aiuto ce la farà io la puoi fare papà non ho sentito ma ce la dirà ha detto che devi andare qui ah ecco non le stavo andando a quel paese gli diceva devi andare più lontano ah ho capito lo fa spesso anche mamma con papà vai più lontano anzi stai lontano anzi non tornare più ma perché? la sofia si è rotta le palle vai tu vai corre ma perchè? vai isene prendi il braccio la sofia la socia la socia la socia sa Grazie a tutti. 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 a tutti.